Per concludere, poi Francesco ti diamo la parola, però per concludere voglio mostrare sempre questi giornali ovviamente che a parte la pubblicità che fanno ai prodotti della Pfizer in modo più o meno nascosto, velato, come va di moda dire adesso occulto, poi dopo parleremo della pubblicità occulta, ecco, scrivono anche queste cose perché mettono paura sempre al cittadino perché dicono attenzione l'Italia è sotto osservazione, guarda un po' che ci scrivono, attenzione l'Italia è sotto osservazione perché noi siccome siamo dei coglioni dobbiamo essere osservati e chi ci osserva? Beh, ci osserva questa signora, la Wonderlion, capito? E ci dice il faro di Bruxelles sulle leggi sovraniste, timori per Quirinale e Costituzione, guarda che amico che scrivi ste stronzate, il timore ce l'abbiamo noi, perché tu vuoi cancellare l'articolo 1 della Costituzione che dice che praticamente il popolo è sovrano, poi se facciamo le leggi del popolo sovrano le chiami sovraniste e quindi c'è timore ce l'abbiamo noi, fai pace con il cervello, no? Ok? E poi addirittura c'è la notizia accanto, vabbè lì questa è un'altra, perché adesso giustamente la Meloni la devono bastonare in qualche modo, Stato di diritto in Italia, ispezione UE al governo su giustizia, ecco UE, andate un po' a controllare il massimario della Cassazione per cortesia e ditegli per cortesia che hanno scritto delle scemenze, vediamo se lo fate, cara UE.